Allora, oggi prima di fare lettura porfogli, trattiamo un tema importante che è quello dei premi. Ricordatevi che le più grandi limitazioni consistono in quello che credete, nei pensieri che avete formulato e che costituiscono di fatto un recinto entro il quale voi vi muovete. Io lo so che è così, perché l'ho notato non solo qui ma anche in altri luoghi del sud Italia, che c'è una tendenza, non vi offendete al lamento, al borbottio, che non è buona. Ve lo dico già, non è buona. Di solito è un modo per costruire alibi per non fare le cose. Lo dico a introduzione del tema premi, perché so che si vocifera che i premi hanno dei difetti, eccetera, eccetera. Intanto partiamo dal fatto che ogni cosa può avere difetti ed è passibile di miglioramento. Però i premi costituiscono un momento importante per l'artista che voglia farsi conoscere, perché prima di tutto sono un momento in cui l'artista si cimenta in qualcosa e quindi inizia a fare esperienza di momenti importanti come per esempio il rifiuto. Essere rifiutato nel senso di non essere selezionato come finalista o ancora di più come vincitore a un premio è chiaramente un momento difficile. Ma a parte il fatto che riguarda il 99% delle persone che partecipano ai premi, non si può diventare artista senza incorrere in qualche delusione e in qualche frustrazione. E il fatto di non essere selezionati a un premio significa solamente che non siete pronti per essere selezionati a quel premio. Perché se foste pronti e se il lavoro fosse buono, grazie Cristiano, se il lavoro fosse buono le opportunità di essere selezionati ci sono. L'argomento premi non è un argomento sul quale io parlo così, in maniera stratta o teorica. Io ho partecipato come membro di giurie a diversi premi, anche diversi tra loro e sono stato presidente anche di un premio. Quindi ho composto io la giuria. Allora, io non posso parlare per tutti i giurati dei premi e non posso parlare per i premi a cui non ho partecipato attivamente. Io posso solo dirvi che però ho fatto per tre anni la giuria e la selezione della parte di pittura del premio Celeste, che ho fatto parte della giuria del premio CoCoCo, che è un premio ancora forse non molto conosciuto, è una sigla che sta per Como Contemporary Contest e però è un buon premio. Ho fatto la presidenza della giuria del premio Griffin o premio della Winsor & Newton. Ho partecipato occasionalmente ad altre giurie, di altri premi, quindi so di cosa sto parlando. I premi servono perché sono il modo per farsi conoscere a un pubblico diverso da quello che abitualmente ci può conoscere. Ma naturalmente ci sono diverse tipologie di premio e quindi è anche giusto poter navigare tra queste diverse tipologie di premio e sapere che caratteristiche hanno e sapere come comportarsi. Innanzitutto ci sono dei premi che sono i cosiddetti premi a invito. I premi a invito riguardano artisti che hanno già un percorso, che in qualche modo sono già conosciuti, cioè vengono invitati e poi possono vincere o meno. Però diciamo sono selezionati dentro un parterre di artisti più o meno conosciuti e dunque ovviamente lì non c'è una gara aperta, lì c'è una gara chiusa tra persone già con una certa fama. Ad esempio, faccio degli esempi, il premio Michetti è un premio dove è il curatore che invita gli artisti e poi c'è una giuria che decide. Il premio a genere Fabri, il premio Fabri per l'arte, il premio Fabri per l'arte è quello dell'azienda che produce le famose amarene con i vasi, che è un premio appunto istituito da un privato, però che di solito ha un curatore e è il privato stesso a selezionare gli artisti che gli interessano, anche perché è il privato che paga il premio. C'è il premio Cairo, un altro esempio di premio istituito da un privato, da un editore, tutti voi lo conoscete, se non hanno perché è il presidente del Torino Calcio, oltre che l'editore di tutte quelle riviste vendute in edicola a un euro e oltre che l'editore di Antiquariato e di arte, che sono due riviste di settore. Anche lì funziona così, anzi lì è la redazione della rivista arte, che è composta da detti ai lavori, di gusto diverso, ognuno ha un gusto diverso, il quale decide chi sono in quell'anno le persone più degne di attenzione. C'è il premio Maretti, che è stato fatto più volte a Museo Pecci di Prato e a cui anche ho partecipato come curatore, c'è il premio Lissone, che è il premio indetto dal museo che oggi è diretto da Alberto Zanchetta, c'è il premio Furla per l'arte, c'è il premio New York. Questi sono i premi a invito, non è qualcosa a cui voi potete partecipare di vostra volontà, dovete essere scelti. Però veniamo alle cose che possono invece interessarvi, ci sono due tipologie di premio, più di due in verità, ma diciamo che le macro aree sono due, ci sono i premi a pagamento, cioè la cui partecipazione prevede il versamento di una quota di iscrizione e ci sono i premi che non prevedono questa cosa e dunque sono a partecipazione gratuita. In un caso o nell'altro comunque i premi prevedono sempre che l'artista si faccia carico, perlomeno nel caso venga selezionato, della spedizione dell'opera. Quindi c'è sempre comunque un impegno da parte dell'artista. E d'altra parte l'impegno è normale se si vuole partecipare a una mostra collettiva, questo succede anche con le gallerie che sia l'artista a dover portare i pezzi, a meno che non ci siano delle problematiche particolari di trasporto e di particolarità delle opere, allora ci si comporta diversamente. Ma diciamo, il problema dei premi a pagamento è ovviamente che implica l'esborso di denaro. I premi a pagamento si sostengono e vengono organizzati e hanno quindi una serie di costi da affrontare, questi costi vengono affrontati, assorbiti, anche con un margine di guadagno, attraverso le quote di partecipazione. Ovviamente per vivere questi premi sanno che le partecipazioni devono essere più plurali possibili perché gli introiti devono essere ampi. Sono premi organizzati da privati, quindi sono, se vogliamo, un modello di business, il premio a pagamento. Però anche all'interno del premio a pagamento ci sono dei distinguo da fare, ci sono premi e premi, ci sono situazioni interessanti e altre meno. Io posso dirvi la mia esperienza personale. Come membro della giuria del premio celeste e in particolare della sezione di pittura, attraverso la selezione degli artisti finalisti io ho conosciuto artisti che non conoscevo, che io ho votato e selezionato e con i quali in seguito ho avviato proficue e lunghe collaborazioni. E posso dire che questo è successo almeno per 4-5 artisti. Che non mi sembra poco dal punto di vista di un artista essere selezionato da qualcuno che non ti conosce e iniziare a collaborare con il critico che ti ha selezionato. Alcuni di questi rapporti con me durano ancora oggi, quindi io do un voto più alla cosa. Primo perché io ho scoperto dei talenti, secondo perché i talenti sono stati scoperti da me. Ovviamente voi dovete sapere che i premi sono costituiti da delle giurie che sono fatti normalmente da critici, qualche volta da artisti, qualche volta da giornalisti e ovviamente le persone hanno sempre un gusto diverso e ovviamente, soprattutto se si tratta di critici, i critici seguono già una serie di artisti. Quindi è normale che se tra i partecipanti vi sono dei nomi che quei critici conoscono, la loro attenzione vada verso quei nomi, soprattutto perché sono lavori che in qualche modo conoscono già o con cui hanno confidenza. Ciò non vuol dire però che non venga visto ogni singolo lavoro. Nelle mie esperienze nelle commissioni ho passato giornate intere a vedere centinaia di immagini. La verità è che basta ed è sufficiente vedere un'immagine per capire se l'artista è buono o no, se l'artista è pronto o no. Per chi fa questo lavoro come me da diversi anni, scusateli in modestia, ma ci vuole poco capire se il lavoro sta in piedi o se l'artista deve lavorare ancora. Quindi intere giornate a selezionare immagini, vi assicuro che anche con altre persone, è un lavoro. Come avviene la selezione nei premi? La selezione avviene con una prima scrematura in cui si sono viste tutte le immagini di tutti i partecipanti e si inizia a segnare quelli più interessanti. A questo punto abbiamo un numero di artisti che è notevolmente superiore a quelli che saranno i finalisti, al che la commissione si riunisce e vota per alzata di mano. In alcune situazioni il presidente di giuria ha un voto che vale doppio per sparigliare casi eventuali di parità. Funziona semplicemente così. Vi assicuro che i critici che fanno parte delle commissioni ovviamente hanno i loro interessi a promuovere artisti che già conoscono, ma questo non esclude assolutamente che se vedono un artista di talento questo venga selezionato. A me è successo e più di una volta. Questo per sgombrare il campo da eventuali dubbi. I premi a pagamento sono un business? Sì, i premi a pagamento sono un business per chi li organizza, ma sono un'opportunità anche per chi partecipa. Ovviamente ci sono premi che hanno una quota di iscrizione un po' più alta, altri un po' più bassa. Quello che sconsiglio di fare quando partecipate a questo genere di premi è candidare più di un'opera. Ci sono alcuni premi che consentono questa cosa. Voi candidate la prima opera, costa tot, la seconda opera costa un po' meno e via di seguito. Ma che senso ha candidare più di un'opera? In ogni caso nei migliori viene richiesto che oltre all'opera candidata vengano mandate almeno due immagini di altre due opere a supporto per far capire un po' qual è il mood del lavoro, perché chiaramente un lavoro può essere particolarmente ben riuscito, ma può anche essere fortunosamente ben riuscito. E allora con le opere a supporto si vuole vedere se è un caso di fortuna oppure no. Credetemi, ho riscontrato molte volte che l'opera candidata non fosse malaccio, poi viste le due opere a supporto mi mettessi le mani nei capelli. Quindi nei premi più avveduti viene sempre richiesto un supporto di altre due opere per capire e anche un curriculum, perché è ovvio che se c'è una maturità curriculare il lavoro venga guardato con un occhio più attento rispetto a quando non c'è ancora un curriculum e quindi scegliere quel determinato lavoro può diventare una scommessa e un rischio. È tutto normale questo, succede in ogni genere di premio di ogni genere di categoria, non solo nel mondo dell'arte. Intendiamoci, se viene istituito un grande premio di architettura e partecipano studi importanti e studi sconosciuti, ovviamente la giuria anche per avvalorare la qualità del premio tende a guardare con maggiore attenzione gli studi importanti senza tralasciare quelli minori, ma ovviamente la tendenza umana è quella di, perché il premio sia riconosciuto come una cosa buona, io devo selezionare cose buone e cose buone possono essere selezionate laddove c'è un corposo curriculum, anche se non è automatica questa cosa. Ok, vediamo quali sono i premi a pagamento, poi parliamo di quelli non a pagamento. Tra i premi a pagamento, tra i più famosi c'è il premio celeste che ha anche una sezione internazionale, cioè un premio internazionale che si chiama Celeste Price. Ovviamente il periodo di iscrizione solitamente è da gennaio a giugno, tutte le informazioni potete trovarle su www.premioceleste.it. Il premio non ha un tetto di età per la partecipazione, ovviamente quasi sempre in quelli a pagamento non c'è il limite d'età, invece è più ricorrente in quelli non a pagamento. Ha una quota di iscrizione, mi sembra che si aggira intorno ai 50 euro, e contiene un premio di pittura e disegno che è stabilito nella quota di 4.000 euro, un premio di fotografia e grafica digitale, il cui vincitore vince 4.000 euro, un premio di video e animazione, anche qui 4.000 euro in palio, un premio installazione, scultura e performance, 4.000 euro in palio, un premio progetto che però prevede una quota partecipazione un po' più alta, mi sembra sia sugli 80 euro, cioè la presentazione di un progetto che non è ancora stato realizzato ma che si vuole realizzare. E poi c'è il premio del pubblico, una sorta di premio di consolazione in cui si vince soltanto 500 euro perché a godare l'opera migliore è il pubblico, inteso anche come pubblico generalista, non di addetti ai lavori. Questo è il premio Celeste. L'altro premio che in alcune parti ha un po' scurato la fama del premio Celeste degli anni scorsi è il premio Alte Laguna che viene organizzato e viene tenuto a Venezia. Anche questo ha un'analoga quota partecipativa, anche qui non ci sono limiti di età per la partecipazione, il periodo di iscrizione anche qui è da giugno a dicembre e le informazioni si trovano su il sito premioartelaguna.it. I premi sono più corposi e sono 7.000 euro per ogni categoria e le categorie sono pittura, scultura e installazione, arte fotografica, videoarte e performance, arte virtuale e digitale, arte ambientale e paesaggistica. La cosa interessante è che oltre ai premi in denaro questo premio offre alcune mostre in gallerie, gallerie sia italiane che straniere, negli ultimi edizioni c'era una galleria francese, una tedesca, una portoghese e una indiana e soprattutto offre delle residenze. Conosco una persona che ha vinto una residenza e l'ha vinta a Mumbai in India, mi ha detto che è stata un'ottima esperienza. Tutto il dettaglio di ogni premio ovviamente lo trovate nel sito, io vi cito soltanto come dire le differenze tra l'uno e l'altro. Un altro premio che in qualche modo è collegato al premio Cairo che è un premio invito, ma che non è un premio invito, cioè organizzato dallo stesso editore che organizza il premio Cairo, ma è dedicato a giovani e qua c'è un limite di età, il limite di età mi sembra che sia under 35, comunque è un premio a pagamento con una quota di iscrizione, è il premio arte, la cui finale si tiene contestualmente alla finale del premio Cairo, quindi abbiamo al Museo della Permanente a Milano, nelle sale sottostanti ci sono i finalisti del Cairo e nelle sale sopra ci sono i finalisti dell'arte, molto furbescamente loro hanno creato un percorso per cui chi vuole andare a vedere il premio Cairo deve comunque passare obbligatoriamente a vedere il premio arte, questo garantisce un flusso di pubblico anche ai giovani che partecipano a questo premio. La finalità del premio, cioè il premio si articola in quattro sezioni, che è pittura, scultura, grafica e computer grafica e i finalisti sono 40 e la commissione è composta dalla redazione della rivista arte. Un altro premio molto discusso, su questo purtroppo non posso spendere parole positive, è il premio ora. Il premio ora è nato da un'idea e dall'intenzione di una giovane curatrice, è strutturato così, le commissioni, c'è una commissione e poi ci sono una serie di gallerie partner, le quali offrono in premio hanno una mostra nei propri spazi, ma hanno il diritto di scegliere l'artista che tra i partecipanti più interessa. Quindi quello che si vince sono delle mostre personali. Purtroppo più di un mio allievo e di diversa età ha vinto il premio ora e ha avuto dei problemi, cioè promesse non mantenute, situazioni non poco chiare. Sono sicuro che nella maggior parte dei casi e delle 40 mostre messe in palio ogni volta non ci fossero questi problemi, però è accaduto, io lo segnalo perché ho avuto testimonianze dirette. So per certo che però da quest'anno è entrato Alberto Zanchetta, che è un curatore valido nel premio, credo che questo possa contribuire a rendere più serio ed efficace il premio. Un altro premio a pagamento, un premio che viene organizzato dalla galleria Combat a Livorno e si chiama Premio Combat. Anche qua vengono dati diversi premi in palio, c'è anche una borsa di studio per artisti under 35, ma anche qua non ci sono limitazioni di età, semplicemente solo per la borsa di studio è richiesto di un'età inferiore a 35 anni. Costa un po' come il Celeste e l'Arte Laguna, intorno ai 50 euro la partecipazione. A Milano c'è un piccolo premio che da qualche anno sta portando avanti così un percorso, si chiama Premio Art Gallery e questo è interessante perché a quota di iscrizione è gratuita, soltanto che come spesso a casa in quelli gratuiti c'è una limitazione che è di 35 anni. Allora, per quanto riguarda il Combat, trovate tutto su www.premiocombat.it. Per quanto riguarda il premio Art Gallery, trovate tutto su www.associazioneartgallery.org dovete segnarvi queste cose perché non c'è nessun foglio per queste cose. Un altro premio, sempre a pagamento, ma con una quota di partecipazione abbastanza bassa, che è di 30 euro, è il premio Francesco Fabri. La differenza tra questo e gli altri è che è specializzato in due categorie che sono fotografia contemporanea e arte emergente. Arte emergente ha il limite dell'età dei 35 anni, fotografia contemporanea no. Tra i nuovi premi sorti recentemente, sempre a pagamento, ho notato questo Tina Price. Il Tina Price è organizzato un po' diversamente dagli altri, nel senso che è un premio che avviene su tre piattaforme, che sono tre città. Si può partecipare o a Tina Price Roma, o Berlino, o Barcellona. Un po' come il premio ora, ogni piattaforma è legata a una serie di gallerie partner e quello che si vince è una mostra in una delle gallerie partner. Anche qui una mia allieva, c'è un'altra ragazza che ha fatto questo corso che state facendo voi, ha vinto uno di questi Tina Price sulla piattaforma di Roma. Non so esattamente come sarà la sua esperienza, perché è un'esperienza nuova, per cui di più non posso dirvi. Andiamo ai premi gratuiti, che sono interessanti. Il premio gratuito è gratuito, cioè si tratta soltanto di mandare un'immagine e candidarla. Io non capisco perché i premi gratuiti non siano affollati di gente che partecipa. Allora, o c'è una scarsa conoscenza, oppure c'è una sorta di serpeggiante masochismo. Cioè, il premio è gratuito, se non partecipi, mi dispiace, ma hai dei problemi. A meno che non hai una limitazione d'età. E purtroppo un sacco di gente che non ha nessuna limitazione né d'età, ha dei problemi a questo punto. O non si informa abbastanza, il che significa avere dei problemi. Cioè non informarsi è un problema. Comunque io sono qua per informarvi. Allora, il più importante, il più famoso è il premio Terna. Come sapete, Terna è una grande azienda del settore dell'energia, quindi è un premio molto ricco dal punto di vista delle offerte di premio ed è molto articolato in diverse categorie. Le categorie sono anche in ordine all'importanza degli artisti. Per esempio, la categoria Teravatt, cioè la più grossa, quella che mette in pario 30.000 euro, è molto simile al premio d'invito. Cioè, devi essere Cunellis o Paladino o un grande artista per essere invitato. Tutte le altre categorie, invece, sono aperte, ovviamente. C'è la categoria Gigavatt, che offre un programma di residenza di artisti di tre mesi in una città internazionale, la cui residenza ha un valore commerciale di 20.000 euro. C'è poi un premio acquisto dell'opera e un premio acquisto per il terzo classificato. Siccome è molto, molto, davvero molto articolato questo premio, ci sono altre due categorie, sono Connectivity e poi c'è il premio Giovanni Galleria e il premio Online. Ce ne sono diverse. Non sto a dirvi la rava e la fala di tutto. Potete vedere tutto su premioterna.it. Limitazioni d'età e quant'altro. Posso dirvi che Gigavatt devi avere meno di 35 anni, Megavatt anche, Connectivity invece non ha limitazione d'età. Quindi anche all'interno di questi premi dove ci sono limitazioni d'età ci possono essere dal premio invito con limitazione d'età al premio aperto. Quindi in questo senso il terna è interessante ed è veramente il più importante. Un premio interessante, anche qui ho fatto parte della giuria di questo premio, insieme a Beatrice Buscaroli e ad altri critici, insieme a Spadoni che è l'attuale direttore del MAR di Ravenna, Museo di Arte Contemporanea, nonché direttore di Arte Fiera Bologna. La commissione era così composta, eravamo noi tre, più due insegnanti dell'accademia. Il premio opera è organizzato dalla CGL di Ravenna. È assolutamente gratuito. L'unica particolarità che ha in questo caso è la limitazione d'età che è 40 anni. Però è interessante perché è un premio tematico, cioè ogni anno viene proposto un tema e gli artisti possono candidare opere che abbiano a che fare col tema e devono anche spiegare in che modo hanno a che fare col tema. Si trova tutto su www.operacgl.it. i premi sono abbastanza bassi, vanno dai 3.000 euro per il primo classificato, 1.500, 1.000 e sono premi acquisto. Sempre vicino a Ravenna c'è un altro premio che si chiama Premio Marina di Ravenna. si trovano informazioni su capitra.it. È organizzato da una cooperativa culturale. La cosa interessante è che mette in palio una mostra personale in una sala del Museo di Arte Contemporanea di Ravenna, di cui il direttore faceva parte dell'altra commissione, nonché è anche di questa in verità. Anche qui uno dei miei studenti di quando ho fatto questo corso all'Accademia di Brera ha vinto e mi ha detto che si è trovata bene. È un premio interessante, ha una limitazione d'età ovviamente, che è 40 anni. Purtroppo quelli gratuiti hanno spesso questa cosa qua, ovviamente, mentre quelli non gratuiti non hanno una limitazione perché devono fare cassa. Interessante, anche questo vinto da due miei allievi, è il premio Rugabella, che è organizzato in una piccola cittadina vicino a Milano, che è Castano Primo. Si trova tutto sul sito proloco.castanoprimo.it. È aperto a tutti gli artisti senza limiti di età, ed è gratuito. Castano Primo. Le tecniche ammesse sono pittura, scultura, installazione, arte fotografica, videoarte, performance, arte virtuale, arte multimediale. Si vince poco, pochissimo, 1000 euro, ma ovviamente è compreso alla mostra, sia dei finalisti, sia del vincitore, la mostra personale del vincitore. Quindi è un premio abbastanza umile, però direi sufficientemente democratico e soprattutto gratuito. Un altro premio gratuito, vi ho detto che ho fatto parte della commissione, è questo COCOCO, Como Contemporary Contest, che è stato istituito qualche anno fa, ha la limitazione anagrafica dei 35 anni per partecipare, perché è proprio un premio dedicato ai giovani. È interessante perché, oltre al premio acquisto dell'opera vincitrice, c'è ovviamente la mostra dei finalisti, ma i vincitori accedono alla Biennale della Giovane Creatività, che è un evento francese che si tiene in Francia, non vi dico il nome in francese, in ogni caso trovate tutto sul sito del Comune di Como, www.comune.como.it. Un altro premio che mi dici, però questo no, questo non c'è più, ogni tanto sai c'è un turnover, alcuni premi scompaiono, altri compaiono. Comunque, questo elenco non è esaustivo, io vi consiglio di tenere sempre d'occhio alcuni siti in cui vengono costantemente. Allora, uno di questi è CercaBando, cercaBando.it che è stato messo in piedi dalla figlia di un artista che è Pino Deodato, ed è una giovane critica molto brava, è in gamba, che ha allestito questo sito. Un altro, mi diceva ieri Cristiano, i e trattino art now, punto, punto, lo dovete trovare, perché non è italiano. Qua vengono e trattino art, punto, non si sa, bisogna trovarlo. Perché non è italiano, però mette tutte le opportunità e le possibilità che escono un po' in tutto il mondo, per cui sia per artisti, per curatori, per insegnare anche all'estero, tante cose insomma. E art now, e art now. Ok, questo è quanto sui premi. Domande? Sono stato abbastanza chiaro? Ho messo qualcosa? È un'opportunità. Ecco, non svenatevi a partecipare a tutti quelli a pagamento. Saci è un sito dove si possono caricare le proprie cose, ma ci sono migliaia di artisti, quindi, insomma. No, chiedevo Saci perché probabilmente attraverso le ricerche che faccio su Google, che si vendono i dati, i cookie, mi arrivano queste email da Saci, sono andato a vedere, volevo capire che cosa... Saci il pubblicitario? No, Saci il sito dove poter effettivamente poi mettere le proprie opere. Sì, ecco, ero solo curioso di sapere sei e mezzo a migliaia, eh, chiedeva tutto. Molti che conosco l'hanno fatto, anche qualcuno che ha caricato le proprie cose sul sito di Saci e è riuscito anche a vendere, però insomma, non ne so molto, non essendo io artista non ho mai caricato nulla, quindi non so bene come funzioni. Ok, che altro? Che altro possiamo dire? No, una nota così, questa è personale. ho notato, mi hanno raccontato, mi dicono che sovente qui a Lecce, ma devo dire anche in altre città, soprattutto del sud, o comunque in generale città fuori di grossi centri urbani, le mostre d'arte vengono concepite come una serie di eventi compresi reading, DJ set, musica, degustazione, vino. Io capisco, per carità, la volontà di creare forme di aggregazione. Vi metto in guardia sul pericolo di allineare tutte le cose sullo stesso piano e dunque non focalizzare l'attenzione su nessuna di queste componenti. Cioè, se io voglio andare a un DJ set, vado in un club, ok? Se voglio degustare vino, vado a una fiera di vini, oppure a una degustazione nel Monferrato o nel Salentino. Se voglio vedere arte, vado a vedere arte. Mettere insieme tutte queste cose è altamente improduttivo. Cioè, la gente si trova, chiacchiera, sta bene, ma non ha niente a che vedere con l'arte questa cosa. Ma proprio niente. perché il risultato sarà che la gente entra, ascolta il reading, beve il vino, guarda le opere, ma non fa con attenzione nulla di tutto questo. Inoltre, questo genere di Kermess attira un pubblico che non è il pubblico dei veri conoscitori d'arte, non è il pubblico degli eventuali collezionisti. Può essere il pubblico degli addetti ai lavori, ma vengono lì per divertirsi. Allora, io non dico che uno che vada a vedere una mostra deve prendersi le scudisciate sulla schiena e inginocchiarsi sui ceci, tipo fantozzi. No! Però sono dell'idea, perché l'ho visto all'estero e in Italia, che le gallerie veramente serie cercano di ridurre al minimo gli elementi di distrazione. Nelle grandi gallerie, per esempio a Milano, in quelle che si concentrano in Via Ventura, non c'è nessun tipo di buffet. Cioè si entra in uno spazio gelido, veramente da morgue, e si guardano le opere. Se non ti piace vai. È così. Ed è così anche a New York, le gallerie di Chelsea. Sì, qualcuna un po' più spiritosa e giovane offre calici di prosecco, ma non è la regola. La regola è che l'opening è un momento sì di aggregazione dove si trova molta gente, ma sei lì anche per vedere la mostra. Poi ovviamente ci sono, diciamo che la norma generale, senza arrivare a essere così austeri, da proprio offrire solo silenzio e neon, come si può fare, però diciamo che bene sarebbe puntare l'attenzione sui lavori. Le gallerie serie di solito badano molto a questa cosa, anche perché le gallerie di un certo livello non sono interessati all'afflusso di pubblico in termini quantitativi e numerici. Sono interessati all'afflusso di un pubblico selezionato e eventualmente un pubblico di compratori, di collezionisti o di addetti ai lavori, cioè persone che vengono dai giornali, dalle riviste specializzate, critici. Anche gli artisti sono mal tollerati, guarda, in alcune gallerie. È così, funziona così, ma per quello che vi ho detto ieri, l'arte contemporanea non è democratica, non è per tutti, ma non perché non abbia le potenzialità per essere per tutti, non è per tutti, perché non a non tutti interessa l'arte contemporanea. Solo a pochi interessa e dunque è per costituzione elitaria. E se ci raccontiamo qualcosa di diverso, stiamo dicendo panzane, non è così, altrimenti le gallerie d'arte sarebbero affollate di gente e invece sono affollati gli stadi e invece sono affollati i centri commerciali. Diverso è il discorso delle grandi mostre pubbliche, perché lì c'è anche un intervento delle scuole, dei licei, delle accademie. È chiaro che a Milano il giorno di chiusura della mostra di Chagall c'è un'ora di coda, siamo d'accordo, ma la gente che sta andando a vedere Chagall non ha nessuna cognizione di arte, la maggior parte. Sono persone che vanno a un evento molto pubblicizzato, sanno che Chagall è un artista come Van Gogh e vanno a vedere quella cosa piuttosto che andare a teatro o al cinema. Va bene, è cultura generale, ci sta, non c'entra niente con il mondo dell'arte contemporanea, non c'entra niente. Non vedrete mai le code di un'ora al alpac di Milano, a meno che non vi venga portata alla street art, quello è un discorso diverso. Io non ho mai visto code alpac, però alpac per la street art le ho viste. Quindi, come dire, dentro l'arte contemporanea e dentro l'arte in generale ci sono le nicchie per pochi, che sono quelle dell'arte contemporanea e poi ci sono quelle della grande arte divulgativa. ma non vuol dire che l'arte, siccome c'è una coda di un'ora a Palazzo Reale per vedere Chagall, sia diventata di interesse pubblico. Non è proprio così. È una moda, è un passatempo, ma non c'entra niente con il mondo dell'arte contemporanea. Quello che fa la coda a Chagall raramente entra in una galleria d'arte privata, anche perché le gallerie d'arte private hanno appunto questa allure molto fredda, almeno a Milano, con queste assistenti bellissime e glaciali e chiaramente sono molto respingenti. È stato così anche per me all'inizio. Io ricordo benissimo le prime volte che in tubante entravo in questi spazi che ti mettono agitazione, in cui non sai, iniziano a sudarti le mani. È durato poco perché, come dicevo, è bastato dire che ero collaboratore di Flash Art e la cosa è finita quasi subito, però ricordo anche le prime volte che non conoscevo molta gente del mondo dell'arte, andare all'inaugurazione, vedere le opere, mettersi in un angolo e comunque capisco che è difficile. Lo è, ma se ti interessa quel mondo lì, tu sei più forte di quelle difficoltà e prima o poi passano. Anche la prima volta che vai in bicicletta è difficile, caschi, ti sbucci le ginocchia, ma poi dopo diventa come camminare, come respirare. L'idea è questa. Comunque, ripeto, per tornare al discorso delle code, non fatevi l'illusione che quello significa che il pubblico tutto d'un tratto è diventato un pubblico attento all'arte. Non è così, altrimenti il sistema dell'arte oggi sarebbe in una condizione di maggior salute, quello italiano, invece non è così. Anche se il sistema dell'arte italiano è stato per tanti anni un sistema tra i primi al mondo, forse è il terzo o il quarto sistema dell'arte funzionante, produttivo, cosa che oggi non lo è più perché ovviamente si sono aperti i grandi mercati della Cina, dell'India, eccetera eccetera. Quindi questo è quanto. Se vogliamo possiamo iniziare con la lettura dei portfolio, se non ci sono domande. Questo era l'ultimo aspetto teorico che trattiamo, il resto è soltanto lettura di portfolio, tranne poco prima di finire oggi che vi leggerò l'ultimo elenco di congedo e di incoraggiamento. Sei pronto? Sei pronto tecnico? Così? Questo è l'ultimo. qui ti sono ritrovato diwno è soltanto거 di passare piano snaccone molto ci sono seguendo. Ho shH. Oh shh. Ho shH. Ho andato. ci siamo? sì allora, a te la parola ricorda il tuo nome a tutti allora, il mio nome è Paolo Guido e credo che saremo brevi perché la batteria non so quanto ci dura va bene, comunque si può iniziare da un punto qualsiasi in realtà forse mi piacerebbe a partire da un'immagine che è fuori dal catalogo, dal portfoglio che è una delle prime che ho realizzato ecco magari ve le faccio vedere così ecco Paolo, mi trovo? sì sì, non sto dicendo niente di particolare sto facendo vedere questa prima immagine e questo è un mio punto di partenza diciamo per semplificare, ecco, dividiamo in tre parti minime tutto il lavoro che poi sono pochi anni 2011-2013 quest'anno sono stato un po' più fermo quindi hai iniziato nel 2011 sì, ufficialmente sì poi di tenere da una vita o di pico dicci di cosa si tratta allora, questo è un inizio nato anche per caso alle volte è giusto dire che le cose nascono per una spinta ti interrompo solo per dire non andate tanto sul biografico presentazione del lavoro perché la persona che è il vostro interlocutore non vi conosce e non siamo certi che sia interessato all'aspetto all'aspetto biografico a meno che non sia sì, corrispondeva cioè tu puoi dire guarda, io ho iniziato nel 2011 quindi non da molto il mio lavoro prima il punto poi diciamo le altre cose prima di che cosa si tratta allora possiamo partire dal soggetto che non sono dei bambini in realtà questi qui si parla sicuramente di infanzia ma è un pretesto un punto di partenza ecco, per iniziare a parlare di qualcosa ho iniziato da queste immagini per caso perché mi è stata proposta una mostra e quindi ho detto la voglio fare così la faccio sicuramente le mie diciamo passioni sono state sempre per l'arte antica però questo non esclude anche la presenza della contemporaneità quindi ho rivisto inizialmente e in questo quadro si può vedere un'iconografia che veniva molto usata nel medioevo ma anche nel rinascimento quella del amor vici tomnia cioè dell'amorino che cavalcava un leone e quindi rappresentava la vittoria degli istinti dell'amore sugli istinti ecco questo mi ricorda quello che dicevamo anche ieri il fatto di cavalcare qualcosa e questo mi è successo all'inizio che sicuramente ho cavalcato una moda che stava nascendo che è nata da poco il pop surrealismo ma ci dici come sono fatti perché ecco la tecnica inizialmente per me è stata la tecnica digitale ok almeno in questa prima fase quindi lavoravi su base fotografica no anche scansioni tratte dai miei disegni era un mix ecco sì possiamo dire che rubavo un po' anche no in maniera questo questa rubava rubava abbastanza giusto si chiama Claire Levoler in un francese errato perché è maschile credo Levoler comunque va bene non ha importanza maschile o femminile però è una che ruba praticamente e quindi i riferimenti sono quelli del pop surrealismo Mark Ryden Joe Sorren che è più espressivo anche mi interessava il segno di questa persona va bene l'inizio è stato appunto in digitale le posizioni di questi bambini inizialmente erano seduti per lo più e hanno un cerchio intorno come a volerli proteggere da qualcosa che diciamo incombe spesso è sulla destra c'è questo Felix oppure c'è un uomo nero che cerca di disturbare un elemento di disturbo ecco facci vedere dal portfoglio si poi dunque io non so cosa vedono loro però piccolissimo vediamo per le immagini allora questa è la prima mostra che si è tenuta a Roma nel 2011 Would You Be My Miracle ed era una mostra praticamente in contemporanea la mostra principale era di Ray Caesar e Natalie Shaw che sono comunque degli artisti che lavorano nel digitale andiamo nel lavoro perché questo è come dire questa è una forma di captazio benevolenza ah sì 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 non va bene io voglio sapere del lavoro i miei lavori presentati sono questo qui che si chiama Vita Nova in realtà questo è un lavoro che in quel periodo mi è stato commissionato dall'Espresso questo è il massimo possiamo vederlo meglio così sì io l'ho messo su due pagine per ok non devi fare la storia di ogni lavoro devi farci vedere i lavori e l'infarinatura generale perché ricordatevi che quell'essere davanti a voi è impaziente molto più di me sì per me si può puntare sul soggetto che a differenza dei primi c'è già un piccolo cambiamento è sospeso in aria per me rappresentano dei momenti questi gesti insomma dei soggetti quindi questo è un momento di passaggio sicuramente passare diciamo da una piccola mostra magari in un bar per il terario però soddisfacente per me ad una galleria un po' più grossa può essere un momento di passaggio e quindi forse anche di sospensione vabbè questo è un lavoro che ho presentato anche in quella nostra è un trittico sì le proporzioni stanno rimanendo quelle giuste e qui abbiamo un soggetto al centro che è sospeso e protetto sempre da un cerchio e due elementi esterni che poi dovevano stare in posizione cerca di ricordarti la gerarchia di importanza delle cose da dire c'era beh hai detto che hai iniziato col digitale sì stavo andando al punto adesso allora in questa stessa mostra c'è un esperimento ci sono questi due bambini che io riprovo uno di questi riprovo a rifarlo in materico praticamente un olio sul vino che è questo che vediamo sì e questo è un soggetto secondo me di passaggio importante almeno per me dal digitale al materico riesco a vedere un'ostia ma mi hanno cambiato anche la dimensione io prima le vediamo giuste forse c'è un adattamento di pixel in grandita ok questo è va beh c'è stato il passaggio al materico alla pittura e qui cosa stiamo vedendo qui stiamo vedendo invece una mostra che si è tenuta a Nambil in California perché non c'è la tecnica la tecnica solo in questa ma anche perché c'è scritto digitale non vedo uno purtroppo hai digitale quella roba c'è scritto digitale 50x70 2011 ragazzi io non vedo niente così scusate lasciamo allora per lo streaming l'immagine possiamo anche vedere qui e vediamo quello che c'è qua perché se no io non riesco proprio a vederle non andate davanti alla camera facci vedere i fogli siamo analogici va bene questo è quello precedente che stiamo vedendo e poi è stato ripreso anche in tutti alla mia sinistra alla mia sinistra quindi qua siamo già al passaggio alla pittura sì bene questo qui è ancora un digitale per una quest'ultima collettiva in California insomma ed è digitale sì California dove? a Neme Hill c'è anche tra gli sponsor c'era iFructose la Jaguar sì questo qui Kingdom Animalia ed è stato vabbè ma non dico i curatori va bene vediamo gli altri lavori quindi passato alla pittura questo non ce l'ho in stampa non so quello che si può vedere dal video è un disegno? sì è un disegno sì la tecnica è punta d'argento quindi a fianco diciamo al quindi è un incisione? no non si sa è un disegno su carta preparata si usa lo stilo metallico ah ok sì poi nel tempo c'è anche un'ossidazione quindi tu sei rimasto poi permanentemente sul lato analogico no no sono passato al lato scuro della forza sì attualmente insomma lavoro lavoro più in materico in pittura anche se dunque quest'altro invece vabbè è un lavoro sì vediamo ecco questa è una personale invece c'è la locandina qui abbiamo qualcosa da vedere sì ci sono dei ecco questo qui allora qui diciamo la figura è già diventata un po' più adolescente questo è uno dei miei ultimi ci tengo molto e si è messa in cammino secondo me perché c'è un movimento il titolo di questo è Diogeneia e rappresenta praticamente c'è dietro la metafora diciamo del del cinismo dell'essere autarchico cioè del non avere a che fare con la società però sta partendo verso un viaggio quindi adesso vedremo cosa cosa succede da questo però questo è olio su tavola sì poi io l'ho semplificato ci sono anche degli altri pezzi qui per esempio sono anche questi sono degli oli su tavola quest'altro sì questa è la mostra del 2013 sì questa è l'ultima mostra del 2013 e poi finisce con questa mostra all'acquarium di Roma quello era un Colin Christian che è stato venduto c'era un collezionista qui a Lecce vabbè ho portato questo pezzo qui che è un rabdomante immerso nell'acqua ok cos'altro ci fai vedere poi terminiamo no guarda forse è solo questo questo è un originale sì sì mi piaceva insomma poi ce l'ho portato perché era piccolino come pezzo quindi poteva essere una tavoletta sì sì un cartone ah cartone cartone stelato o solo cartone no è un cartone preparato sto facendo anche dei pezzi sull'astra metallica perché chiaramente ottiene un effetto molto lucido ok ed è interessante ci fermiamo sì adesso analizziamo la presentazione e il contenuto della presentazione e anche il portfoglio ci sono una serie di correzioni da fare io inizio con quelle tecniche poi vi lascio la parola allora certamente si può intanto navigano nel bianco le immagini non va bene non si vede un'ostia e immagino che una volta stampate comunque l'effetto rimanga no va bene poi decidi tu poi bisogna vedere che formato è il portfoglio se è una 3 o una 4 una 3 ok mettere tutte le locandine della galleria dove hai fatto la mostra serve o non serve sì può servire va bene no no può anche servire l'importante è mettere i lavori poi nella tua presentazione io adesso dico del modo in cui ha presentato poi vi lascio al contenuto poi io tornerò sul contenuto ci vuole una capacità di mettere in ordine gerarchicamente le cose importanti tu ti perdi continuamente in dettagli narrativi la prima cosa che interessa a una persona non è chi sia questa roba che hai rappresentato non è come si chiama non è l'aspetto meramente narrativo della faccenda la prima cosa che interessa è a me che sono un formalista è come lavori non ci hai detto come facevi le cose digitali qual era il procedimento se stai facendo vedere i lavori a una persona devi poterglielo dire e nella transazione alla pittura hai omesso come avviene questa transazione per esempio io immagino non mi devi confermare ma io immagino che il procedimento rimanga lo stesso di quando preparare l'arte digitale solo che hai un passaggio in cui poi ti metti a dipingere quello che hai preparato questo si vede dai dipinti si vede perché non sono molto diversi da quelli digitali tranne per il fatto che sono fatti di materia e questo potrebbe essere un elemento di debolezza ovviamente tu le dipingi bene le cose di talento però ti dimentichi di dire che cosa io ti ho detto che è giusto rubare qui sei lupenterto tu hai rubato tantissimo hai fatto bene secondo me arriva il momento di iniziare a cercare la tua via no la cosa brutta che succede in quest'ambito che lui ha citato il pop surrealismo di cui io sono abbastanza un conoscitore anche perché sto per pubblicare un libro il primo italiano sull'argomento è che ci sono i grandi artisti iniziali e c'è un casino di gente che è venuta dopo che è inevitabilmente derivativa tanto e tu rischi di entrare in questa zona di derivativi cioè per chi non sa chi è Mark Riden è ovvio che vedere un tuo lavoro è vedere un lavoro con una qualità tecnica con una qualità senza dubbio c'è questa qualità ma vuoi davvero stare nella nella coda del fenomeno nella scia del fenomeno ecco allora siccome invece quello è il destino automatico che avviene per tutti coloro che sono arrivati dopo i maestri e sono entrati in scia perché qua la scia c'è C'è più Raiden più Marion Peck più meno Sorrent più Ray Cesar se proprio vogliamo dire quindi ci sono troppo evidenti adesso abbiamo imparato il modo adesso dopo aver rubato dobbiamo sviluppare la parte nostra è ovvio che tu lavori ed è ovvio che commercialmente questa questione non è una pilla però io intravedo un pericolo grandissimo grandissimo di cioè come se tu ti fossi costruito la tua fortuna e contemporaneamente la tua prigione ecco aspetta ma tu non puoi parlare tu non puoi parlare adesso parlate voi io ho altre cose da dire però è giusto che parliate voi segnati quelle cose importanti avanti vabbè Paolo è un amico lo conosco da un bel po' io scusate io non petita questa vuol dire che sta per dire una cosa dai è vero nelle opere di Paolo si vede molto l'influenza del pop surrealismo e di autori tipo Mark Ryden la Ceccoli io ne ho viste tantissime di opere di pop surrealismo però in Paolo comunque ho sempre notato un suo carattere personale nel senso che se dovessi vederle senza conoscere senza leggere il nome dell'artista riuscirei a metterle insieme cioè non le metterei nel nel dubbio ma chissà chi è l'artista no perché secondo me c'è un carattere perché mischia questa influenza pop surrealismo comunque con una sua ricerca di maestri più vecchi e si nota magari delle influenze rinascimentali vabbè ma anche quelli anche Mark Ryden no sì 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 questo è vero questo è vero però secondo me c'è un suo carattere personale che è entrato nelle sue opere ed è io credo una cosa positiva specie per chi intraprende questa strada del pop surrealismo di magari sbagliare e copiare troppo gli altri io credo che non sia accaduto totalmente in Paolo che abbia intelligentemente preso spunto e abbia trovato la sua strada personale caratteriale io credo che debba ancora trovarne no è ovvio sì ovvio però comunque è già un punto di partenza più alto rispetto a chi poi chiarirò anche perché e che cosa però adesso è importante che voi diciate anche per me Paolo è un amico e io trovo interessante mi trovo molto d'accordo con quello che ha detto Alessandro e trovo molto interessante il fatto che lui si sia avvicinato al pop surrealismo allontanandosi dallo stile del pop surrealismo quelli big eyes classico e nel corso della sua opera è andato a ricercare una fisionomia che si vede lì che è completamente diversa da ogni artista e quella è una caratteristica che trovo molto interessante temo che come dici tu sia un elemento ma non basta non devi farlo no in ambito di presentazione tu non devi sottolineare i tuoi errori non so che li hai ma che li conosci ma non devi dirli tu guai tu non devi dirli qualcun altro niente lui non deve in ambito di presentazione sottolineare le proprie debolezze se anche ha la cognizione di avere delle debolezze ovviamente non deve sottolinearle perché è come spararsi ok il tuo lavoro lavoro buono paolo ovviamente dal punto di vista tecnico ma proprio per questo mi sento di essere più duro con te che con altri proprio perché essendo in presenza di una capacità e un talento immaginativo non riesco a capire perché tu non lo faccia ancora più proprio e possibilmente anche più italiano perché qua di italiano c'è poco cioè l'immaginario è un immaginario di riporto io lo capisco benissimo guarda forse perché è una mia battaglia personale quando io ho creato Italian New Bro che ovviamente è un nome straniero che si rifà una definizione che è di quell'ambito americano l'ho creato con l'intento e col presupposto che quella fosse una cosa tipicamente italiana e non l'Obrò purtroppo in area romana si sono invece diffuse delle di più diciamo delle espressioni molto vicine agli americani ma se tu sei italiano devi avere una specificità anche in quell'ambito gli americani amano che se sei un artista italiano tu sia molto italiano ecco perché Fulvio di Piazza funziona in quell'ambito perché è molto italiano Mazzoni è molto italiano arriva bene è molto italiano Verlato è meno italiano e lo è sempre stato anche quando viveva a Milano sì però le sue iconografie sono smarcatamente americane mentre quando faceva gli hooligans era molto più italiano comunque al di là di una cosa qua entriamo in una nicchia del mondo dell'arte che forse non tutti conoscono e non voglio entrare io dico che qua c'è talento che però è un talento nutrito più dalla pigrizia iconografica che d'altro oltretutto io trovo pericolosissimo che entri in un circuito così rigimentato così ben definito senza distanziartene ecco perché la mia cura omeopatica per chi fa questo genere di lavoro sono dosi massicce di pittura tedesca dell'est Europa di scuola di Lizia di Clugi di astrazione ambliga massicce dosi perché quella che ti sei costruito è una prigione dorata io non ho nulla posso posso onestamente dire di essere forse tra i critici italiani uno di quelli che si è occupato di questo genere più di altri forse più di tutti bene quindi lo dico da amante del genere attenzione a non cadere in quel tranello perché gli americani sono feroci e si accorgono quando li stai copiando non è che ne stai copiando uno ma comunque stai copiando un mood che è loro è loro è la loro cultura non è la nostra tu puoi fare le stesse cose con altrettanto dettaglio ma riferirti al tuo patrimonio o a quello almeno europeo io lo dico queste cose anche a le persone che invece virano tutto sulla scuola di Lipsi e quindi fanno una pittura molto allusiva a quell'ambito riesco a vedere quando è italiano e quando non lo è però è ovvio questa cosa che succede non è tu non puoi difenderti lo so che sei lì con la qua con i go non puoi puntualizzare lo so che lo sai perché sei intelligente ma questo è un momento in cui ti devi pigliare le mazzate tanto più quanto più sei bravo ma se fai vedere queste cose al vero conoscitore d'arte lo sai che è la reazione è un'altra devi solo decidere cosa ti interessa se ti interessa la nicchia sei nella direzione giusta però dovrai comunque correggere la questione della originalità iconografica poi posso dire una cosa sta roba dei bambini ha rotto i coglioni cioè basta non si possono più vedere bambini e bamboline era bello all'inizio era bello quando avevano il volto di Cristina Ricci adesso abbasta per favore lo so e allora cazzo smettila subito inizia a fare donne cominciò a dire no ho capito ho capito eh no va bene ma qua c'è però c'è John Curran anche se vogliamo eh c'è Lisa Yuscavage se qualcuno la conosce ci sono delle cose di altro va bene va bene certo che va bene però questa non è la campagnolina italiana non lo è cioè la luce così da Arcadia a Vespertina può andare bene può richiamare l'Arcadia italiana ma questa roba delle bamboline non è nostra eh non sei il solo che fa quella c'è un'altra che aveva un nome simile al tuo Paola Guida Guidi ma per se Paola Guidi ha iniziato anche lei con bambolone così non la conosci e ha fatto pure la mostra da come si chiama quello americano no no un altro dei primi ho un momento di comunque la Luz de Gis lui come si chiama il proprietario non me lo ricordo in questo momento mi verrà in mente durante la giornata ma molti anche Giacon per esempio Giacon è un artista molto italiano anche lui è riuscito a fare le solite mostre annuali della Luz de Jesus però rimane italiano cioè bisogna essere veri tu sei italiano ed europeo io amo l'arte fantastica immagino che anche tu ami l'arte fantastica prova a creare questo stesso mondo fantastico più tuo e meno loro e la gallerista si fotta se posso dire no non dico quella particolare gallerista so anche chi è e penso che sia una persona molto in gambe dico il gallerista in generale come figura si fotta ed è giusto che decida anche di non seguirti se tu cambi però tu sei un artista e l'artista non fa la stessa cosa quando ha desiderio di fare altro non lo fa neanche per campare rischia comunque sei bravo ma ancora di più mi fa incazzare questa cosa proprio perché sei bravo pausetta di metà mattina aspettate consegna questionario e poi riprendiamo così iniziate a avere in mano il questionario in cui siete voi a criticare noi cioè a dire a dare voto a noi e a dire cosa pensate di questa esperienza ok allora il tuo nome cognome ad alta voce e poi ad alta voce ci fai la spiega sono Stefano Iaia non di piccolo quadro no 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 sono Stefano Iaia sono un artista autodidatta che dipinge l'olio lavoro su Tele Grandi e praticamente diciamo che la mia ricerca nei lavori si rifà molto agli artisti del passato soprattutto quelli del barocco ma con un'influenza surrealista in alcuni casi siccome piace molto l'illustrazione in alcuni casi anche molto illustrativo diciamo che in questa serie di immagini che vanno dal 2012 al 2014 sono una ricerca dell'immagine spaziando comunque in un cioè sono andato a ricercare un'atmosfera di uso spesa nell'in realtà dove praticamente ci ho potuto mettere passioni emozioni e inquietudini in alcuni casi sì questa diciamo questa è realtà quasi da sogno incubo in certi casi niente la mia questo è il mio punto centrale diciamo della ricerca questa questa ricerca diciamo interiore che mi proietta per dei lavori futuri nella ricerca di una immagine ed è un contesto più attuale più contemporaneo quindi c'è un percorso graduale step dopo step per attualizzare i miei lavori questo è un lavoro l'ultimo lavoro che ho fatto del 2014 le ho messi tutti in ordine di realizzazione ripeto dal 2014 al 2012 mi rifaccio molto comunque a questi toni scuri mi piace la drammaticità dell'immagine questo per esempio è un lavoro che lo definisco intermedio sempre del 2014 che è una sperimentazione che sto cercando di proiettare in avanti nei prossimi lavori quindi una ricerca di un'immagine con colori diversi che non si rifanno più al passato ma diciamo più moderni sempre mantenendo questa atmosfera da sogno diciamo irreale sospesa quasi rendendo più contemporanea la figura poi passiamo ad alcuni lavori del 2013 dove ci sono dei diciamo elementi più surreali o anche illustrativi questo sempre del 2013 e via dicendo questo con elementi sempre surreali passando dei lavori con una colorazione un'impostazione più classica precedente alla mia ricerca attuale è anche di tipo illustrativo quasi in questo quasi fumettistico ecco diciamo questo è il quadro di partenza molto più classico dove comunque ancora non avevo messo degli elementi quindi la mia sperimentazione è ancora abbastanza lunga torniamo agli ultimi cioè gli più recenti Giaia si cognome Giaia ok mi accendi la luce a voi secondo me la tecnica è molto cioè funziona però è molto legata appunto a questi pittori barocchi di cui tu hai citato mi viene in mente subito Caravaggio però cioè di artisti che si rifanno a Caravaggio anche in Puglia ce ne sono tantissimi tipo che ne so Roberto Ferri a Taranto per dirne uno poi ho visto anche che ti sei interessato anche alla parte più fantastica e surreale e mi è venuto in mente anche Valleio altro pittore che faceva fantasy ecco secondo me dovresti iniziare un po' a discostarti da questi pittori che sono molto molto tecnici cioè che comunque si rifanno a questo passato e poi mi è sembrato che alcune scene che prendi in esame siano molto diciamo tra virgolette monotematiche nel senso che sono volutamente struggenti mi è sembrato secondo me dovresti anche andare oltre a questo genere di tematiche qualcun altro? giudizio ovviamente solo da non da esperta da mi piace il jeans quanto sia irriverente in questo quadro è un jeans giusto il blu non so quanto sia stato voluto proprio come tua provocazione nel senso che per me sei mi viene a dire che sei brevissimo complimenti mi piace irriverenza ripeto del jeans però non vorrei che fosse l'escamotage la tua unica escamotage per allontanarti perché ti devi allontanare poi dalla tua non so classicità o avrei più di un motivo non lo so parlo proprio da più che profana a Cristiano a Cristiano qualcun altro? il problema di ieri non notavamo il problema di ieri tutti questi autodidazzi che devono per forza dimostrare di saper dipingere hanno rotto i coglioni è vero non lo dice perché c'è qualcosa di male ma è vero lui sottolinea un meccanismo al quale sembra impossibile fuggire autodidatta uguale pittura ipertecnica e ipermimetica ma non dobbiamo continuamente ricordare al mondo che siamo bravi non è e comunque la questione dell'arte contemporanea non riguarda soltanto la bravura tecnica e inoltre c'è un modo per esprimere perizia tecnica credo di avervi mostrato alcuni artisti ieri in cui c'è perizia tecnica senza esibizione cioè senza e per di più con una vena di innovazione ed inventiva superiore cioè il problema dell'autodidatta è che fa di tutto una questione di rappresentazione di clima di atmosfera ma non riesce mai a innovare e ad andare oltre quelle cose che ha imparato sui libri o che vorrebbe avere imparato all'accademia e il risultato è che alla ricchezza tecnica al virtuosismo esecutivo non corrisponde mai un virtuosismo compositivo un virtuosismo inventivo cioè i lavori di Stefano possono essere rubricati già in un genere ampiamente indagato ampiamente percorso che va da un certo tipo di immagine pittorica di carattere illustrativo ipergrafico alla alla definizione di un immaginario neogotico di maniera e anche di un certo successo commerciale che va dal teenagerismo post twilight diciamo fino alla rappresentazione appunto di un immaginario gotico per nulla perturbante con venature erotiche che non è in verità realmente orrorifico cioè io trovo più orrorifico vedere un lavoro di Marlène Dumas dedicato alla violenza sui bambini con uno stile che sicuramente è molto più espressionista ma che è più carico di vero orrore l'orrore che qui si descrive è un orrore dolciastro romantico di origine narrativa è il riferimento visivo è quello veramente della letteratura vampirica per teenager io sto parlando di tutte cose che mi piacciono attenzione e nei quali sono discretamente esperto ma proprio perché sono esperto mi hanno cariato i denti sono troppo dolciastro e lo so ma voi però mi raccontate una storia di prigionia qua una prigioniere di genere cioè io voglio dire quello che bisogna apprendere è l'inventività la capacità di scardinare squadernare un'idea di struttura e di organizzazione delle cose perché Neorauk è interessante perché lui dialoga direttamente con la logica narrativa e la scompone e la distrugge quando guarda lo spazio lo scardina quando guarda il tempo lo squaderna il passato e il presente si confondono si sovrappongono lo spazio è irregolare e non è coerente con le strutture spaziali così come le vediamo otticamente il colore non è mai aderente alla mimesi non è mai realistico la narrazione è sempre ingarbugliata fino al limite del comprensibile il risultato che abbiamo un nuovo modo di narrare un nuovo modo di rappresentare un nuovo modo di testimoniare il nostro tempo Neorau che è un maestro il pittore di Big Eye Art no già non lo era Margaret Keane figuriamoci i derivati di Margaret Keane quindi cosa bisogna fare per uscire dalla sindrome dell'autodidatta bisogna studiare bisogna iniziare a cambiare la propria alimentazione visiva invece di mangiare continuamente le stesse cose visivamente bisogna iniziare a passare a un'altra dieta vedere altre cose imparare che cos'è l'arte concettuale imparare che cosa sono quelle cose distanti a nel luce da noi imparare a sospendere il giudizio posticipare la critica e non registrare tutto sotto le due categorie del mi piace non mi piace è l'unico modo questa è una prigione perché attira inevitabilmente un pubblico di non addetti ai lavori i quali ammirano la bontà tecnica e non si accorgono della povertà contenutistica i quali sono solleticati dall'atmosfera e dalla suggestione ma non sono solleticati a livello intellettuale cerebrale quindi è una pittura che chiede poco e dà poco dà emozioni primarie ma basiche povere e anche per te che la fai immagino che inizi ad avvertire questo stato di povertà la pratica del disegnare va benissimo e anche nel tempo di attualizzare con la sensibilità di spingere ma non so se faccio una vittura sono guardando l'artista dove troffano le bellate colori soffonti e brittici però questo colore metto lì che risponde si prima ancora il problema dell'artista che deve cambiare e che vuole trovare subito una soluzione cioè vuole uscire non sa come uscire dalla prigionia e pensa che una rottura definitiva è forte e lo possa aiutare no quello che può aiutare è una lenta maturazione una lenta decantazione come tutte le fasi i rehab come tutte le fasi di disintossicazione ci vuole tempo perché il corpo espella il veleno la droga deve essere lentamente espulsa dal corpo e oltretutto bisogna arrivare a un punto in cui si deve poter ammettere che quella strada era sbagliata e che adesso ce n'è un'altra Pollock non è nato facendo il dripping Pollock è nato facendo paesaggi orribili brutti che tra l'altro valgono lo stesso perché lui è Pollock quindi può darsi che se voi farete bene poi recupereranno anche gli inizi vuole dire faceva queste cose e poi è diventato così a che salto ecco Pollock faceva quelle robe e poi anche Mondian sapete benissimo che ha iniziato una lenta scomposizione prima di arrivare al linguaggio neoplastico e quindi si può fare ecco si può fare ma per farlo bisogna avere coraggio e per farlo bisogna avere cognizione dei propri limiti in uno degli esercizi che vi ho dato ieri vi ho detto di elencare le cose che non sopportate del vostro lavoro quello era un buon momento per iniziare a elencare tutte le cose che non tollerate più e che vanno modificate ok ovviamente sei bravo ma che te lo dico a fare te l'avranno già detto è insufficiente io preferisco i Sex Pistols ai Genesis e i Genesis erano grandissimi musicisti e i Sex Pistols no ma i Sex Pistols sono dei grandi artisti anche se sono meglio i Clash questi giorni sono stati molto illuminanti perché comunque ho trovato qualcosa che ricercavo il problema personale comunque della realtà in cui vivo che non si conosce l'arte vista dagli addetti dell'arte no allora nella propria ricerca si si ricerca un qualcosa lontano però questa è stata una concezione che ho da tempo e quindi mi ha confermato in questi giorni con le due parole che devo dare questo cambiamento cioè la mia visione adesso non va più solo all'immagine fine a se stessa anche perché il mio percorso era quello di imparare a usare i materiali adesso faccio un passo indietro vorrei fare un passo indietro nel disimparare metaforicamente diciamo l'uso dei materiali per creare delle immagini ma non avevo avevo percepito ma non avevo colto fino diciamo questi giorni fino in fondo la visione la visione no non tanto il casino perché il casino l'avevo già capito la visione dell'addetta al lavoro io ho una visione tra l'altro la mia è più vicina cioè è più bonariamente comprensiva nei confronti di queste espressioni era più bonariamente comprensiva nei confronti di queste espressioni se al mio posto ci fossero stati alcuni miei colleghi che reputano tutta sta roba decisamente una roba brutta ne avreste sentite delle belle io ve lo dico in un altro modo forse sono anche un po' paternalistico ma questa roba qua e l'arte contemporanea sono due campi diversi poi io sono convinto che esistano molti che vengono da quei campi e che sono dei grandi artisti Raymond Pettibon nasce come disegnatore illustratore dei manifesti dei concerti punk dei black flag e di altre band punk americane e diventa però un grande artista che elabora un suo linguaggio a cavallo tra fumetto e arte Barry McGee viene dalla strada dalla street art ma elabora un linguaggio che poi quasi sconfina nell'astrazione di Barry McGee non vediamo solo i personaggi tipicamente suoi ma anche i pattern queste strutture romboidali questi dipinti astratti e quindi ci sono dei passaggi Mike Kelly nasce in un mondo come quello californiano fa i suoi pupazzetti ma poi diventa un artista altamente concettuale cioè bisogna capire che il gioco dell'arte non è il gioco dell'amatore questo tipo di lavori che abbiamo visto hanno un carattere fortemente amatoriale io amo l'arte amatoriale mi piace la folk art per esempio trovo che nella espressività ingenua o fintamente ingenua ci siano dei valori però si tratta di scegliere di far parte di una nicchia oppure di giocare nella lega principale è questo io penso che sia meglio giocare nella lega principale da ultimo calciatore piuttosto che giocare in una lega di amatori da primo calciatore cioè è vero che nel regno dei ciechi chi ha un occhio è re però che magra consolazione ok timing tempo sotto il prossimo ola dai che usciamo ci serve il collegamento per il per il mac e dopo facciamo alessandro non lo cacciamo mica via dove sta nome cognome altissima voce allora Francesco Romanelli dunque questo è il mio portfoglio diciamo che è una bozza è strutturato però va completato anche perché dovrei farlo in inglese perché mi serve in inglese quindi ho giusto fatto una bozza anche la qualità dell'immagine tutto il resto ecco non è male averlo in inglese ovviamente anche solamente averlo in inglese significa avere perlomeno l'aspirazione di valicare le Alpi ok questo è quello vabbè che ho letto l'altro giorno giusto ho fatto qualche modifica però ce lo racconti con parole tue mentre ci fai vedere le immagini niente allora inizio più o meno è strutturato come il sito parto dai progetti tutti aperti perché li sto portando tutti avanti diciamo non stiamo vedendo la stessa cosa però come mai eh sto sto già e comunque quello è uno dei miei lavori bastoni appoggiati al muro ehm sì diciamo una serie di lavori diciamo bene così adesso posso cazziare l'altro lato ottimo ottimo no vai non ti preoccupare non mi faccio mancare niente in due presentazioni abbiamo il tau ricomposto due estremi se no togliamo la chiavetta sono stacco eh no entro da solo praticamente tu ti stai sboppiando c'è un altro un altro sfondo che è un altro adesso un parallelo ma facciamo così scusa posso staccare qualche problema tecnico per chi è in streaming chi è in streaming peraltro allora allora stacchiamo stacchiamo porteranno un pochino di pazienza aspetta passiamo al pc allora girala no non è un usb quello è di là l'usb ah è qua ok l'ho messo anche questo dove sta? ok aspetta devo trovare questo qua ok ok allora vabbè più o meno è strutturato come il sito quindi parto dai lavori più recenti con i progetti sono tutti progetti aperti che sto portando tutti avanti tutti avanti e dunque questo è il primo progetto si chiama progetto immersione continua e consiste nella praticamente nella in questi tubi di cartone che vengono appunto inclusi immersi in vari spazi luoghi non mi interessa il concetto non luogo o comunque tutta la concezione diciamo post moderna eccetera mi interessa appunto un processo che sto portando avanti documentato ed è appunto di immersione di inclusione di questa diciamo di questa serialità immersione intesa da un punto di vista ho preso in prestito il termine matematico più che quello e praticamente appunto consiste in questa relazione in una copia dell'ambiente già esistente e quindi cerco di realizzare questa spiegati meglio perché non sto capendo sì appunto per immersione si intende una relazione tra due strutture leggo tali che una delle due contenga su interno una copia dell'altra quindi ho utilizzato questo questo concetto qui che è il concetto di immersione di inclusione insiemistica faccio vedere le immagini ad esempio questo è un ambiente per esempio questi sono diciamo ambienti luoghi di qua della zona per esempio questo è San Cataldo qui in questo caso ho messo questi questi elementi in questo modo perché magari c'era una scala e ho reputato appunto diciamo proseguire la scala in questo modo però magari si capisce poi in altri in altri contesti questo è un altro luogo ancora che dicono appunto essere un posto disabitato comunque era un villaggio disabitato più che una città sì però non mi interessava il fatto che fosse disabitato nel senso si prestava a quello che era mi piaceva come contesto questa è una chiesa e questi sono altri forse più della chiesa ci sono questi posti questi luoghi che mi interessano per esempio qui ci sono due colonne io ho appoggiato al muro tipo questi 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 elementi che creo questi tubi in cartone o qui per esempio c'è un legno io ho ho diciamo creato questa questa copia della però sto portando oppure qui che c'era questa diciamo questa ripetizione ho voluto comunque creare ho qua che c'erano queste stanze vuote comunque ci sono anche dei video perché appunto documento anche con dei video e qui le ho appesi creando e qua ci sono appunto dei video che ho realizzato però ho anche per esempio questo questa era è praticamente una parte si vede nelle altre foto di una porta e già mi creava la diciamo questa questa serialità io ho semplicemente appunto copiato quello che già c'era ed era alla porta stessa pure quindi questa questa serialità me l'ha dato già me l'ha data già l'ambiente diciamo che oppure questo è un altro ambiente un ambiente naturale e dove appunto poi in queste foto non si vede molto bene però ho diciamo copiato copiato comunque riproposto l'ambiente che già che già c'era che era quello naturale degli alberi e il bello è che comunque gli alberi alcuni alberi si sono spezzati o caduti avveniva la stessa cosa con con i cartoni perché cadevano nel momento in cui dopo un po' alcuni cadevano avevano lo stesso diciamo processo lo stesso processo naturale tipo qua che c'è comunque involontariamente si è creata questa questa cosa che alla fine c'è la copia si è creata da sola questo processo però siccome questo comunque era legato a diciamo al momento stesso quindi di di installazione e poi venivano tolti perché comunque voglio dire non potevo seguire il processo sto seguendo con lo stesso con lo stesso su una stanza diciamo in una stanza che praticamente è sul terrazzo di casa che ho scoperto appunto era una stanza senza un tetto e dove c'erano appunto cose buttate evidentemente il proprietario non so quando ho ristrutturato mi è piaciuta siccome appunto è a casa posso seguire il processo in modo più costante quindi utilizzo queste immersioni man mano ne aggiungo sempre una e seguo il processo qua ne ho messe solo alcune più esemplificative perché comunque è aperto quindi cambiano ogni giorno e cambiano veramente dove sono? qua non le vedo allora qua per esempio sono appesi sono uno due tre tre travi appese tra l'altro è proprio un concetto di cioè assunto che parla appunto tra spazio la differenza tra spazio e luogo oppure altri autori adesso non voglio e quindi per esempio questo è il primo giorno ho messo solo la prima immersione poi io seguo diciamo ho fatto un blog appunto per o per seguire a modo di diario così viene documentato appunto viene documentato tutto questo è stato il primo giorno e ho messo quattro quattro cartoni il giorno dopo già uno era spostato e io a me interessava questo e man mano si modifica sempre di più la cosa aspetta vediamo se c'è qualcosa questa è una seconda questa fa parte della prima immersione ovviamente per esempio qua già è tutto è tutto diverso e in questo caso appunto si sono modificati all'ambiente anche si sono diciamo curvati tendono diciamo appunto a copiare l'ambiente in cui sono sottoposti attraverso le agenti atmosferiche eccetera o anche il vento semplicemente riprendo con una videocamera questi appunto quelli appesi come diciamo tutto il per esempio qui è prima di partire devo prendere un aereo la mattina dato che devo mancare una settimana per esempio qui è man mano ho in questa foto ma già il giorno dopo dopo due giorni già non hanno più quella quella quell'aspetto ecco quell'aspetto per esempio qui c'è questo lavandino così li ho messi li ho poggiati sopra in modo appunto come si vede nella seconda foto e già poi erano all'interno il giorno dopo dopo due giorni già cambiano e quindi mi interessa seguire tutto il processo infatti ho pensato comunque di di fare un'esposizione a processo concluso quando penserò sia sia giusto un'esposizione direttamente sul terrazzo svincolata da ogni che appunto è possibile vedere sia il luogo il posto dove appunto è avvenuto tutto il processo sia anche poi magari una documentazione un po' più poi parlando con con Paolo mi ha dato un input anche forse anche utile magari un apporto diciamo anche di un architetto paesaggista che può darmi dell'input questo è un altro progetto si chiama progetto POSET è sempre un progetto su su cartoni praticamente sono cartoni di 8 metri dove praticamente io ricopio la griglia già presente perché sono cartoni canettati che sono gli stessi di prima ed è una griglia composta da 28.800 spazi di cui io vado poi a colorare su ogni cartone uno spazio di colore bianco quindi il secondo avrà due spazi bianchi il terzo tre fino all'ultimo che risulterà tutto bianco non so se finirò mai questo progetto però può essere anche magari portato avanti da qualcun altro e 800 che ne abbia voglia che ne abbia voglia ed è poi vabbè poi abbiamo realizzato un'esposizione nata un po' diciamo quasi per caso con vabbè con Giulia l'altro ragazzo che oggi non è venuto che si muove a stanza ed è venuta proprio qui la manufattura e Cnos queste sono alcune foto e sono questi cartoni qui ne ho portati tre uno invece era completamente vuoto per dare il senso appunto della possibilità della continuità del lavoro ed è questi sono alcuni video perché c'erano due proiezioni mentre appunto lavoravo proprio per far capire perché magari non era molto facile comprendere perché comunque sembravano quasi non disegnati quindi era giusto una cosa più ecco da esempio questo è un altro progetto pure sempre in linea con quello che sono comunque dei rotoli questo è un rotolo di 30 metri dove io vado a disegnare queste righe a riempirli questo invece è un altro ancora si chiama superficie superficie rigata e sono perché secondo me lavoro molto con lo spago anche e sono questi appunto questi elementi che realizzo dove appunto la luce poi va a fare il suo il suo il suo corso diciamo per esempio qui sono tre però il fatto che appunto siano stati messi in un determinato modo mi crea comunque delle linee rette e però quelle sono comunque delle curve però tra l'altro poi per caso ho avuto modo anche di conoscere un artista che lavora proprio con la luce croato Goran Peterkol in una in una residenza e fa delle cose a me parire abbastanza belle questo va bene un altro e poi ci sono alcune installazioni tipo questo è un vecchio setaccio dove ho scusate mi sono dimenticato di spegnere la sua gallerista questo è un vecchio setaccio dove è praticamente utilizzato la griglia in metallo per farci dei nodi con lo spago e c'è sempre comunque questa ripetizione la ripetizione anche del gesto dello spago che viene ogni volta questi invece sono dei vecchi libri che io ho arrotolato con degli elastici sempre in serie ce n'è un'altra però sono 100 libri piccolini di lingue straniere trovati così arrotolati e messi sempre disposti in un certo modo questi anche sono insieme di libri sempre vecchi e anche questi questi invece sono dei cartoni piegati vabbè si vede il fatto dei libri e del linguaggio è comunque qualcosa che poi si capisce nei primi lavori quindi questa semantica poi si è trasformata in altro in una semantica del continuo questo è un altro lavoro sono 100 legni possono costituire un quadrato di un metro per un metro queste invece erano tele che io avevo dipinto però non mi piacevano le ho arrotolate le ho messe insieme e anche questa era una tela che non mi piaceva adesso mi piace un po' di più queste invece sono dei legnetti e quelle appunto delle buste comunque c'è questo insieme vabbè però è da vedere alcune foto che vediamo sono già i lavori cioè il lavoro è tutta l'azione tutta no ok cos'è che si vende il video la foto no quelle vabbè le installazioni sono fisica come per quanto riguarda i progetti più che altro per esempio il progetto di immersione nella stanza io ho pensato comunque a un libro per documentare tutto perché comunque anche magari con dei testi diciamo che mi possano aiutare perché penso sia sia bello seguire cioè capire anche tutto il percorso perché comunque non posso far salire cioè poi muore lì la cosa perché comunque infatti in questo caso la fotografia mi serve solo come documentazione appunto per un possibile magari libro va bene finiamo con le tele niente qua ci sono alcune tele tipo questa dove ci sono dei punti prima che la riempissi di questo colore quest'altra invece sono praticamente dei nodi con dello spago ho questa completamente riempita prima di pinta e poi riempita tutta di punti sia l'una che l'altra perché sono due ho questa qui che praticamente è stata sono due tele cucite e completamente riempite di nodi sia l'una che l'altra di che periodo sono queste? questa dell'anno scorso e ho questi vabbè queste qui sono alcune le ho messe però e diciamo che man mano nascono si va un po' indietro tipo questi sono lavori su carta però anche qui c'è sempre riferimento anche a questa questa copia o questa ripetizione perché comunque per esempio questo nasce dal fatto che io appunto cioè da un altro foglio quindi questo è quello che ok fermati e poi fermati fermati non c'è bisogno di vedere tutto qui c'erano va bene le pagine aspetta un attimo lasciagli un attimo quindi se dovessi dire brevissimamente che cos'è che ti interessa e che accomuna questi lavori no quello che mi interessa è la a meno la la continuità utilizzo questa parola poi magari un giorno anche un processo di stop alla continuità di decidere di fermare la continuità però per adesso il senso della continuità l'oggetto dell'indagine qual è? la continuità ma la continuità è molto vano la ripetizione il ritmo la poetica del ritmo è intesa come ripetizione come ripetizione sì penso che poi è legato appunto al senso della continuità però penso è nata dal ritmo ed è nata diciamo dal linguaggio dalle parole è nata da queste pagine io penso che potresti chiarire meglio questo oggetto anche in futuro sì anche perché stai omettendo un elemento che è questo dell'interazione con i fenomeni naturali e con gli agenti atmosferici o comunque con gli accadimenti che non rientrano nel concetto che non rientrano nel concetto che hai espresso no però diciamo intesa praticamente il ritmo o comunque la ripetizione intesa proprio come evento come evento della ripetizione allora devi ricordarti di dirtelo ok fammi tu dagli fammi vedere solo il curriculum se c'è no non l'hai messo ok no è perché ok forza vabbè parto dal presupposto che io questo tipo di arte non la comprendo non la definisco mai arte però parlo di di parte ok quando cioè io detesto quando alla base non c'è una espressione manuale di qualcosa che uno sa fare ok perché tu descrivi comunque degli eventi naturali tipo il primo quello di inserire un oggetto in uno spazio in un altro spazio è un evento è un evento naturale è un evento naturale che accade in natura per ovvietà nel senso c'è anche una parola che descrive questo fenomeno che in fisica si chiama entropia che è una unità di misura da uno stato completamente ordinato a uno stato completamente disordinato e l'entropia è la misura di lunghezza di questo intervallo ok quindi viene studiato io posso capire che tu lo lo pensi cioè fai a questo punto rifletti su un problema naturale e mi scrivi un libro io così la tua arte non la comprendo a meno che non mi simuli tu un processo reale della natura come? no ma comunque non puoi rispondere comunque non è vero che lo simuli tu prepari un set ma non simuli cioè è diverso è l'artista per esempio lui dice invece io preferisco se tu simuli questo evento naturale completamente perché altrimenti io la stessa cosa non vorrei essere molto banale e cattivo però faccio la stessa cosa quando entro dentro casa mia e metto la mia la busta della spesa per terra ho fatto la stessa cosa ho messo un oggetto all'interno di un altro spazio ho fatto la stessa cosa in maniera diversa ma se io esco da casa chiamo una persona la faccio entrare la faccio riflettere sullo stesso processo ho raccontato la stessa cosa con un evento molto banale però lo posso contestualizzare e farlo diventare arte non lo so preferisco a questo punto uno scienziato che mi spiega tutto questo credo che di base però nel tuo ragionamento del fatto della spesa ok manca un presupposto manca uno studio cioè a parte Francesco lo conosco però di fondo c'è uno studio costante di tante materie infatti è un riflettere sulla natura non è solo un riflettere sulla natura sono studi che partono da altri studi che sono proprio gli studi di base che poi permettono di dire che potrebbe essere un'indagine artistica piuttosto che non una cosa diciamo casuale un'indagine artistica è un riflettere se io non capisco guarda la parte non c'è una manualità non devi trattenere non devi soffrire e non smaniti ci sia quel genere di obiezioni è normale perché adesso dico una cosa io poi vorrei che finisse lei perché non ha finito di dire esattamente hai detto tutto no no però credo che tu debba spiegare meglio che cosa intendi volevo solo intervenire per dire una cosa è normale che lui adesso voglia sentare l'anelito e intervenire però è anche normale questo genere di obiezioni è sensata questo accade perché questo genere di lavoro concettuale ha un problema annoso che non intende risolvere ed è un problema non suo dell'artista di questo genere di indagine il problema annoso è omettere la capacità cioè non si cura della capacità comunicativa dell'oggetto della visione ma si cura forse troppo della necessità di spiegazione del percorso cioè è un genere di arte che richiede come diceva un mio compianto collega e avversario il libretto di istruzioni quando noi vediamo un'opera concettuale come per esempio One and Three Chairs di Cosu noi capiamo immediatamente il senso della cosa in fondo non è che una variazione di se si ne fa un pip no? cioè la sedia non è solo il suo significato non è solo la sua immagine ma la sedia è l'oggetto allora lì è l'arte concettuale applicata a una dimensione del visivo in cui il visivo riesce a spiegare il procedimento concettuale in morte di queste indagini purtroppo anche l'addetto ai lavori che non abbia parlato con l'artista e non abbia letto diciamo o l'eventuale spiegazione critica o l'intervista all'artista si trova davanti a un'immagine muta ecco da dove nasce questa polarità cioè io comprendo entrambi gli elementi però bisogna capire che questo genere di obiezione non è un'obiezione ideologica ogni volta qualche volta lo è ma non è ideologica è un'obiezione di senso così come questo genere di percorso non è un percorso campato in aria ha radici dentro la storia dell'arte ha radici da Duchamp noi possiamo condividere o no Duchamp diceva verrà il tempo in cui l'arte sarà semplicemente l'idea dell'artista e quel tempo è venuto purtroppo c'è anche un abuso di questo concetto perché la parola arte contiene in sé la radice di artefatto cioè quello che arte non ha è il fatto ma il manufatto o l'immagine benché virtuale è opera cioè è fatta e quindi è artefatta quello che manca in questi lavori è la dimensione dell'artefatto del manufatto che però si trasforma in dimensione della documentazione ok? va benissimo e comprendo ma capite che questo genere di dibattito annoso continua ad aver ragione d'essere perché c'è una cecità reciproca tra questi versanti ma capite che il buonsenso deve condurre questo genere di ricerca a rendersi chiara all'intelligenza dell'individuo senza la dimensione accessoria del testo questo è il grande problema di questo genere di ricerche che senza il libretto di istruzioni rimangono mute e il problema di quell'altro genere di ricerca è che cioè quella per esempio pop surrealista quindi antagonista al massimo di questo genere di ricerca il problema di quel genere di ricerca è di voler piacere a tutti di comunicare subito tutto e di dire e di non lasciare nulla neanche una briciola di possibilità di innescare meccanismi di pensiero e di ragionamento ecco dove sono difettosi l'uno non induce al pensiero l'altro indugia troppo nel pensiero quindi sono entrambi manchevoli non voglio essere democristiano ma questa è la vera verità lo dice uno che ha combattuto estremamente questo genere di ricerche che ancora sorride quando vede certe cose ma che comunque comprende la necessità di inglobare delle pratiche che non sono solamente quelle del dipingere dello scolpire ma anche quelle del riflettere ma sono pratiche che non hanno risolto il problema cioè il problema di rimandare alla dimensione della speculazione che è propria della filosofia quello che gli appartiene o della scienza e di trovare il corretto modo invece di farsi influenzare da questo genere di studi per dare loro una dimensione umana di rappresentazione o di comprensione che però debba essere un pochino meno criptica cioè il problema è che io vorrei vedere quella cosa e probabilmente una soluzione si potrebbe trovare per rendere più chiara quella cosa se io usassi dei tubi che invece che mimetizzarsi nella natura avessero che no lo dico invento sto inventando non dico che tu debba fare così se io usassi dei tubi fluorescenti probabilmente l'immagine che andrei a creare avrebbe una evidenza maggiore e la sequenza delle immagini in cui avvengono quegli accadimenti diventerebbe più palese e aiuterebbe a capire il percorso quasi senza produzione di testo ho fatto un esempio non è che bisogna fare così cioè bisogna trovare il modo perché tutto questo processo e questo vissuto che per l'artista è essenziale e importante perché lui ha riflettuto ha perso tempo ha lavorato ha pensato molto e ha anche fatto manualmente delle cose questo bisogna riconoscerlo io ho solo lo so che io ho solo paura che tutto questo sforzo non riesca ad arrivare alla soglia di comunicazione persino di chi tratta questo genere di indagini cioè voglio dire continuiamo a essere artisti concettuali possiamo essere artisti concettuali introducendo un elemento fortemente dubitativo e autocritico anche nelle modalità di esprimere queste cose è una domanda che ti faccio a cui vorrei che rispondesse finalmente entriamo nel vivo di cosa si parla quando si parla di criticality penso sia complesso come discorso è giusto il fatto che comunque c'è la contrapposizione ovviamente lui vede forse più di me cioè vedi comunque una distanza non lo so e penso la domanda te la faccio è come si fa secondo te è possibile conducendo questo genere di indagini non arrivare ad accettare passivamente l'idea che comunque per comprenderle devi leggere un testo devi ricorrere a un elemento accessorio che non è propriamente del linguaggio visivo no secondo me si può cioè secondo me si può anzi anche perché io sono partito dalle pagine di vecchi libri e ci disegnavo c'è la poesia visiva eccetera a me non interessava la poesia visiva perché c'è questa cancellazione del linguaggio a me non interessava però penso che si possa arrivare perché comunque va visto anche secondo me diciamo di un'opera che può costituire poi una serie di lavori tutto il discorso e capire quello che appunto si voleva cioè il fatto per esempio di questi di questi elementi di tubi ci ho pensato nel senso che comunque viene quasi spontaneo comunque se si vede il contesto anche contemporaneo magari dipingerli in un certo modo o proporli in un determinato modo però siccome un po' forse non un po' la cosa nasce da una necessità il fatto che io utilizzi comunque materiali poveri e utilizzi anche un senso di limite perché mi pongo ogni volta un limite in modo tale che da da quelle poche cose dovrei trarre quello che io quello che vorrei quindi poi esce fuori questa questa povertà di diciamo di materiali però ci ho pensato nel senso che comunque anche per esempio l'immagine della neve magari con dipinti con dei colori fluorescenti o comunque con degli elementi che mettono esatto però magari confido nel fatto che vedendo infatti io non vorrei spiegare infatti anche nella presentazione ho scritto non disegno né castagne né per dire che non mi interessa la rappresentazione però scusami un attimo ti sarà successo hai fatto una mostra e hai esposto dei pezzi francamente mi è stato chiesto ecco senza il tuo intervento che cosa arriva di questa fatica di questa elaborazione questo è un problema da porsi la verità è che se io vedo le tele così accartocciate e non so che tu mi hai detto sono tele che non mi piacevano e quindi le ho usate in un altro modo non posso immaginarmelo ma questo ci sta non voglio sapere sempre che cosa pensa l'artista ma voglio che almeno quell'immagine abbia una capacità di comunicare a un qualche livello e quell'immagine comunica pochissimo quasi nulla e poi l'altro limite del tuo genere di ricerca qua finisce il dibattito indemocraticamente l'altro limite è come gli antagonisti iperpittori e iperartigianali hanno il limite della derivazione anche questo lavoro ha un limite derivativo fortissimo le pratiche poveriste che sono state fatte negli anni 60 ragazzi siamo nel 2015 certe pratiche di land art certe pratiche comportamentali vogliamo portare e traghettare l'arte concettuale a un nuovo piano a un nuovo livello accidenti questi guardano Mark Ryden ma voi vedete sempre gli stessi da cent'anni e ci sono città come Torino in cui non sono mai usciti da questo incubo e voglio dire passiamoci tutti una mano sulla coscienza viva il concettuale a patto che la smetta di derivare continuamente le stesse cose la poetica dei materiali poveri elogora accidenti cioè tu sei più bravo di così e sei più intelligente di così basta abbiamo visto pietre mute abbiamo visto legni scavati abbiamo visto cicli di carnori produrre il freddo sull'astro di metallo abbiamo visti pelle conciate e sassi che creano spirali li abbiamo visti basta cioè io vorrei che fondasse un movimento di liberazione del concettuale da se stesso così come vorrei che i pittori iperartigianali o tradizionalisti o iperfantastici si liberassero da questi limiti perché il senso profondissimo dell'arte è di liberare l'individuo dai propri limiti e comunicare questo senso di liberazione a tutto il resto del pubblico dico quello che ho detto a loro sei bravo ma non basta e guarda che tu troveresti la galleria giusta per te così come loro hanno trovato la galleria giusta per sé ma non so se è giusto per te che tu trovi quell'acquitrino in cui stare se tu vai da Umberto Di Marino a fargli vedere questo lavoro sicuramente catturi la sua attenzione forse non c'è abbastanza elemento sociale dentro però puoi catturare l'attenzione di quella serie di gallerie così ma cacchio per diventare un grande artista devi fare qualcosa di nuovo devi dire qualcosa di nuovo che non abbiano già detto i nostri poveristi che non abbiano già detto i minimalisti che non abbiano già detto i comportamentalisti che non abbiano già detto i fluxus eccetera eccetera bisogna dire qualcosa di nuovo tu hai un pensiero hai un interesse trova il modo per rendere quella cosa più chiara pur rimanendo nel concettuale perché tu parti effettivamente da un pensiero diversamente dal pittore che può anche partire da zero il pittore può partire erraticamente e divagando trovare un proprio modo quindi ha un modo di vedere tu invece sei un progettuale cioè ti interessa un fenomeno e cerchi di indagarlo poi certamente succede qualcosa di erratico nel processo intendiamoci però diciamo che tu sei un preparatore del set in cui avvengono le cose le cose avvengono non per tua volontà ma tu prepari mettere un tubo e dire cioè se metto una cannuccia nell'acqua sto preparando qualcosa non è che me l'ha messa la natura l'ho messa io e sto creando un dialogo tra me e il mondo della natura che è anche una missione di appartenenza a un mondo questo si evince capisci il problema è che questo si sovrappone a ricerche che sono già state parte su questo argomento va bene va bene anch'io amo la fisica quantistica amo tante cose di questo genere troviamo un modo di dirlo più convincente e troviamo un modo di dirlo più remunerativo per te perché devi anche pensare a questa cosa è vero che all'inizio Marina Abramovic forse non pensava troppo ho i miei dubbi non pensava troppo che dalla performance potesse ricavare danaro ma poi ha trovato un modo di farlo splendidamente persino eccessivo ecco voglio dire le cose nascono in purezza ma devono trovare anche una strada cioè quando Gina Pane faceva l'azione amorosa di tagliarsi con la lametta Luciano Ingapin che non era stupido il suo gallerista gli ha detto senti ma fotografiamole queste cose eh le fotografiamo e vendiamo la fotografia perché non è che possiamo farti tagliare il braccio ogni volta no e non è che possiamo mettere Marina Abramovic a pulire delle ossa ogni volta perché non ce la fa neanche lei poverina no quindi un po' di furbizia e un po' di tentare dentro l'ambito che hai scelto di essere veramente più innovativo ok penso che ci fermiamo ah scusate no scusami no 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 ha ragione no hai ragione hai ragione poveristi insomma a me mi è venuto in mente solo perché c'erano alcuni ingredienti o materiali usati il lavoro di Maria Lai non mi spari però forse un suggerimento potrebbe essere quello o perlomeno a me a prima vista i primi lavori sembravano più una sorta di strumento di misura di un fenomeno di qualcosa che già sta lì no cioè come quasi proprio un tecnico mette lì una stadia o qualcosa per registrare fotografare prendere le misure dei fenomeni della fisica che avvengono già da sé no o naturali e forse se questi oggetti così come insomma il tubo fluorescente ma magari fossero evocativi di un immaginario che può appartenere anche ad altri no e cioè si può innescare un cortocircuito fra gli oggetti che io uso per raccontare la stessa cosa è vero però questo è un suggerimento molto forte e molto indirizzato lui ha già detto perché non fa così lui ha detto che gli interessa il partire con dei materiali che lui ha senza forzare troppo no i limiti materiali della cosa e del set poi chiamiamolo così no è vero che invece nel discorso delle tele qualcosa emerge con più chiarezza però io non voglio dire come perché non so come ma devi trovare quel modo di essere migliore di chi ti ha preceduto senza rinunciare alla tua passione al tuo interesse e alla tua indagine non sto dicendo tu non devi dipingere domani tu devi fare quello che vuoi ma trovare il modo migliore per essere più intelligente e più smart nel fare questa cosa così potrai finalmente dare una svolta a questo coazione a ripetere del concettuale che ripeto è specularmente opposta alla coazione a ripetere dell'arte tradizionale e pittorica fine che ripeto